Come capire se l'amante ti ama per davvero? Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia delle relazioni sentimentali. Faccio questo da sei anni, con oltre mezzo milione di followers tra tutti i vari social media. E sono laureato in scienze ed educazione della formazione con 110. E ho fondato lo start-up Club Riservato, dedita ed esclusiva per la crescita personale femminile e sentimentale. Ma vuoi scoprire se l'amante ti ama, forse capire se sei davvero innamorato o meno? Beh, in questo video andiamo ad analizzare proprio una situazione tra amanti. Quindi se hai l'amante rimani fino alla fine del video perché questo video è per te. Se non ce l'hai, beh, allora cambia video. Allora, ciao Federico. Dando per assodato il fatto che un uomo non lascerà mai la compagna per l'amante e neppure mi interessa, è possibile che sia comunque geloso dell'amante se sa che l'amante è vicino ad altri uomini? Ma certo. Dice, magari non passa inosservata perché è pure molto bella e desiderata? Ma certo. È semplice, i uomini rispondono... Allora, ci sono diversi spinte che possono provare, ok? Quindi l'idea di possessione, l'idea di possessione fisica, quindi anche se siete amanti e lui è sposato e non vuole una relazione seria, ovviamente non vuole che altri uomini competano con lui per averti e avere questa percezione, chiaramente lo porta poi a desiderarti di più, a volerti, eccetera, eccetera. Quindi saperti che altri uomini ti corteggiano e sei desiderata, crea diverse reazioni, click run, tra virgolette, quindi reazioni tipo... Sì, click run si dice, credo, che cliccano, quindi fanno partire un grilletto all'interno della persona, quindi del tuo amante, che scatta magari in quella gelosia, possessione, eccetera, ricerca di possessione. Ehm, è possibile si innamori e si infatti dell'amante in questione? No. No. L'amante non si può innamorare se ci sono dei forti blocchi logistici, o in teoria non si innamora come pensi tu. Cioè, l'amante ama la moglie perché la moglie gli fa da mangiare, magari non scassa i maroni, sta lì che si prende cura di lui quasi come fosse un bambino di elementari e si occupa di lui. E la moglie, no, si traduce in similmadro e in similsorella, o in similamica, e rappresenta comunque un amore, tra virgolette, platonico, magari anche desessualizzato a volte, quindi magari non c'è nemmeno quello. Nel contesto, invece, dell'amante, qual è l'amore percepito? È un amore che si rifà alla trasgressione, al nuovo, no? Quindi ci si innamora del nuovo, della trasgressione, un altro bisogno che quindi non viene soddisfatto all'interno della coppia originale. Quindi si potrebbe dire che entrambi le persone vengono amate al loro modo. È come dire, ma ami tua madre, ma se ami tua madre però non puoi amare pure tuo fratello. E no, cioè, sono due amori diversi, no? Cioè, l'amore che tu provi per tuo fratello, nonostante io non abbia fratelli, sicuramente non è uguale, quindi non te lo posso dire, non è uguale con l'amore che provi con tua madre, o viceversa. Cioè, l'amore che provi per tuo padre sarà un tipo di amore diverso e provi per tua madre, la stessa cosa. Non voglio che lasci la compagna, non mi interessa, ma quello che vorrei è farlo penare un po' di più. Già lo stai facendo. Cioè, ecco, quando arrivate in questo caso, quando voi avete una relazione con l'amante e incominciate a pensare, eh, lo voglio far penare di più, lo voglio far penare di più, iniziate a perdere la madre. Inizia a finire. Inizia a finire. Te lo dico già. Inizia a finire. E il motivo è semplice, è perché ti ritrovi in una situazione, in un contesto, dove vuoi di più e vuoi ottenere di più di quello che già stai ottenendo, lo fai capire all'amante. L'amante vede che tu vuoi di più e poi si allontana e ti saluta. Dice, io ho scelto lui come amante perché volevo proprio lui, ok? Credo fosse chimica. Mentre lui ha scelto me perché in quel momento era quello che passava il convento ed è stato pure fortunato. Ma non è proprio così che ragionano gli uomini, in teoria, ok? Lui aveva solo bisogno di fare quello perché la sua di mano gliela dà più. Ecco, trovo poco lusinghiero per me. Non è così. Non è così. Te lo garantisco. Per non dire svalutante, nonostante io sia decisamente superiore a lui sia in bellezza che in stato sociale, il che è paradossale. Mi serve una strategia per uscire a questo impasse, farlo infatuare, in alzare il mio valore o almeno come dicevo poco, anzi farlo penare di più. Già lo hai fatto. Già se tu sei percepita e voluta da altri uomini, in realtà lui inizia a penare di più. e il punto è che il problema sta nel tuo mindset. Se sei veramente così di status sociale superiore e estetica superiore, perché cazzo ti preoccupi del fatto che lui ci guadagna? Forse non è davvero così, forse non sei veramente così di status sociale, o forse sei davvero ma hai bisogno di una conferma esterna. Queste sono domande provocatorie. Il punto è che se un uomo ti dice che sei quello che passa al convento e tu ti ritieni così di alto valore, tu lo sai che non è così. Tu lo sai benissimo che non è così. E lui lo percepirà semplicemente per il fatto di stare con te. Quindi non devi fare nulla in realtà. Puoi continuare a inserire antagonisti, quindi gli antagonisti e le persone con cui flerti davanti a lui. Puoi continuare a inserirle e amplificare queste situazioni e questi contesti. Ma non esagerare. Se tu inizi a fargli capire che vuoi di più da lui, crei un effetto inverso e lo fai scappare. Se invece lui capisce e vede che per te va bene così e inizi a frequentare altre persone davanti a lui, flerti con altre persone davanti a lui, è ok. Non è un problema, non sarà mai un problema e semplicemente incrementerai la sua possibilità di desiderarti ancora di più. E lo manterrai così. Non devi andare oltre, ok? E se tu sai di essere over, quindi di essere in uno stato sociale superiore, non sarà un problema, te lo garantisco. Non avrai problemi nel, tra virgolette, mantenertelo attaccato al culo. E fai capire che è sempre così. nel senso non cambiare l'atteggiamento che hai applicato adesso con l'amante in virtù di farlo poi infatuare di più. Perché quello che ha funzionato adesso e ti ha portato a questo con l'amante è quello che funziona anche dopo. Ok? E che ti consentirà di mantenerlo.